Ciao a tutti, oggi vi presento Frog Wipes, sono delle salviette imbevute di un prodotto anti-ruggine, prodotto in America, completamente biologico, total free, eccetera, eccetera. Ora non sto a spiegarvi cosa c'è dentro, l'importante è che funzioni, cosa dire, queste salviette possono essere usate fino a 3 handpan, puoi trattare, se avete uno strumento solo, lo usate una volta e lo rimettete dentro il sacchetto. Strufinare bene sulla zona, per far aderire bene il prodotto, comunque si vede che, lo vedete subito che il prodotto aderisce. Grazie a tutti. 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 Come vedete la salvietta è un po' sporca. Infatti l'importante è pulire prima lo strumento con qualsiasi prodotto neutro e poi trattare con questa salvietta. Vi faccio vedere se si può trattare benissimo un altro strumento. E ora lo vado a prendere. Ecco il nostro caro Sam. Vedete? Non so se si vede dal video che già rilascia prodotto anche se ho già trattato un altro strumento intero sopra e sotto. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.